Mattinata di allenamento a porta aperte per la Juve, a cinque giorni dalla sfida contro il Frosinone. Ancora assente Rabiot, escluse fratture ma non si sa se ce la farà recuperare in vista della prossima gara. Costice e De Sciglio lavorano a parte e si aggregano alla prima squadra i giovani Perotti e Valdesi, della Next Gen. Nella consueta partitella a ranghi misti spicca la prestazione di Ilin Junior, autore di una doppietta, e il gol di Vlaovic che insacca un calcio di punizione deviato da Scesni con una parata mostruosa. A bordo campo presente parte della dirigenza, Scanavino, Giunto, Liemanna osservano da vicino la squadra. Un segnale di vicinanza importante, così come sono importanti le indicazioni di Magnanelli. Tre tocchi, qualità e ritmo. Indicazioni che i tifosi sperano di veder messi in pratica nella gara prenatalizia contro la squadra di Di Francesco.